Ben ritrovati con la Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno. Luca Palamara è espulso dalla NM gravi e reiterate violazioni del codice etico e lui manda avvertimenti. Vantavano diritti anche i probiviri che chiedono mia cacciata. Hanno rimosso cene con politici. Non era mai caduto prima che l'Associazione Nazionale Magistrate decidesse di espellere un suo ex presidente. Il PM, cacciato per quanto emerso nell'indagine di Perugia, ha diffuso il testo del suo intervento che non c'è stato perché è stata respinta la richiesta di poter parlare. Non mi sottrarrò alle responsabilità politiche del mio pelato per aver accettato regole del gioco sempre più discutibili, ma deve essere chiaro che non ho mai agito da solo. La responsabilità non era soltanto mia, non farò il capo ispiatorio di un sistema, ha scritto. Alex Zanardi, il bollettino, dice che è gravissimo ma stabile, intubato in intensivo per azione a che, ma è arrivato in brutte condizioni. Dopo l'incidente che l'ho coinvolto durante una gara di handbike, il campione bolognese lotta per sopravvivere al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove adesso è tenuto in coma farmacologico. Il chirurgo dice presto per poter fare valutazioni neurologiche, serviranno 7-10 giorni. In questi casi si migliora lentamente ma si può peggiorare repentinamente. Pamela Mastropietro ha archiviato le indagini per violenza sessuale. L'avvocato dice mancava l'acquarela, certo, è stata uccisa 24 ore dopo. Le accuse riguardavano due uomini, un moglianese che le aveva dato un passaggio in auto dopo che la ragazza si era allontanata dalla comunità Paz di Corridonia e un tazzista di origine argentina che l'avrebbe ospitata a casa sua la notte del 29 gennaio, il giorno prima dell'omicidio. Entrambi avrebbero avuto rapporti con lei, approfittando del suo stato di evidente difficoltà. Coronavirus in Germania, la regione Nord Reno-Westfalia, a rischio lockdown. Più di mille lavoratori infetti in un mattatoio focolaio. I contagi sono aumentati esponenzialmente nell'impianto della Tuainis, un'emergenza che nessuno prova a ridimensionare. Il governatore non esclude nuove chiusure. Giulio Reggeni, l'Egitto invia passaporto e oggetti personali ai PM di Roma. Furono ritrovati finti rapitori. Gli oggetti, tra cui tessere dell'Università, Occhiali e dei Borselli, ricomparirono nel marzo di quattro anni fa, dopo il blitz che portò all'uccisione di cinque criminali comuni in un tentativo di debistaggio da parte degli apparati del Cairo. Ma Procura di Roma e Governo hanno chiesto il domicilio legale dei cinque indagati. Notizie da Napoli e dalla Campania. Campania Covid-free, zero contagi, zero decessi per il secondo giorno di fila. Nessun contagio e nessun decesso in Campania per il secondo giorno di fila. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati 1.918 tamponi, di cui nessuno risultato positivo al coronavirus. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza resta dunque a 4.615, mentre il numero dei decessi resta fermo a 431. Sono in oltre 4.059 i pazienti guariti, di cui 4.052 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti lì dove vengono considerate clinicamente guariti i pazienti che dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2 diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata, ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. Napoli Est, cittadini giardinieri recuperano piazza Bisignano a Barra, pulizia in piazza Bisignano a Barra, quindi quartiere nella zona orientale di Napoli. A intervenire non sono gli operatori del Comune di Napoli, ma i cittadini del quartiere insieme all'Associazione Cittadinanza Attiva per Barra. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per poter rimuovere rifiuti e verde infestante. Notizie da Treviso e dal Veneto. La Jaguar di Tepolo, simbolo di Cassamarca venduta a un avvocato tedesco, la usava il patron storico con industriali, senatori e personaggi illustri. Ora è stata acquistata dal germanico Hendrik Booth. Ci porterà la figlia all'asilo. Il caso Asilo contro Prosecco? Si chiude la scuola. A San Giacomo di Veglia il sindaco sostiene il vigneto al posto dell'edificio. Dice non è a norma, la trasferiamo. Genitori allibiti dicono il tempismo è tutto, solerti solo su questo edificio. Il restauro è finito, la rocca riapre ai cento orizzonti del cielo di Asolo. Il monumento simbolo del borgo era chiuso dal fine 2016. Migliorini ha detto la restituiamo più bella cittadini e turisti. Treviso stritta sulla movida notturna, vietati gli spritz per la strada. Provvedimento contro gli assembramenti, dalle 21 alle 3 ammesse solo, consumazione all'interno o ai tavoline. I baristi dicono un'altra mazzata. Cocaina e anabolizzanti in casa ha arrestato un 34enne pizzaiolo puscierto. Patente e intagini, la polizia ha scoperto diverse dossi di droga sia nella sua abitazione che nella pizzeria, che tra l'altro è stata trovata in pessime condizioni. Inizia dal Friuli Venezia Giulia. Fase 3 e nuova ordinanza di Fedriga, la regione del via libera al trasporto pubblico trasfrontaliero, aumenta al 60% la capienza delle corse extraurbane. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente numero 18, recanto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito del trasporto pubblico locale. Scivola lungo il sentiero a bivacco Brollo e finisce nel canale. Trauma cranico per un 59enne che è stato ritrasportato all'ospedale di Udine. Stava scendendo assieme ad una comitiva di 10 persone lungo il sentiero con segnavia CAI 737 dal bivacco Brollo, posizionata sotto la cresta del monte Musi, quando alla quota di 1.100 metri ha perso aderenza su un tratto con roccette ed è ruzzolato nel canale sottostante. Trauma cranico serio per un 50enne della provincia di Udine che è stato ritrasportato all'ospedale di Udine. Ha recuperato il ferito l'equip medica del risoccorso regionale con il tecnico del soccorso alpino e speleologico. Stabilizzato sul posto e invarellato, l'uomo è stato caricato a bordo con il verricello e poi nuovamente stabilizzato al campo base dove attendevano le squadre di terra. Sette tecnici giunti a supporto delle operazioni e dalla stazione del soccorso alpino e speleologico di Udine e Gemona. La chiamata è arrivata in stazione alle 13.20 e l'intervento si è concluso alle 15.30. TV e una canna fumaria a fuoco in Friuli. Due gli interventi dei vigili del fuoco a Tarcento e buia. Una TV e una canna fumaria a fuoco in Friuli. L'intervento dei vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli e dei colleghi di Gemona nel primo pomeriggio di oggi sono intervenute a Tarcento a causa di un guasto di natura elettrica. La televisione posizionata nel salotto di un appartamento si è incendiata. Abbraccio con un furto vittima a un 81enne. Denunciati una donna di 26 anni e un uomo di 21. L'orologio d'oro rubato è stata restituita all'anziano. Nell'ambito dei servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e contro il patrimonio. Nel primo pomeriggio di giovedì 18, in viale Gricoletti, angolo via Osoppo, un equipaggio della sezione radiomobile dei Carabinieri di Pordenone ha notato in sosta nel parcheggio del supermercato Inse un'autovettura Audi 3 colore grigio e nelle vicinanze un gruppo di giovani che bivacavano nell'aiuola del parcheggio del negozio. Lavori di ripavimentazione in A34 dalle 2 di lunedì 22 giugno alle 23 di domenica 12 luglio. Il traffico diretto a Gorizia subirà alcune deviazioni. Continuano i lavori di ripavimentazione sulla rete di Autovie Venete che nei prossimi giorni riguarderanno l'autostrada 34 lungo la carreggiata che collega Villesse a Gorizia. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.